Una richiesta partita dai commercianti del centro di Pavia è rinnovata anche per l'estate del 2023. Si tratta della deviazione del percorso degli autobus da strada nuova per consentire il posizionamento di sedie e tavolini dal mese di giugno ad ottobre. Nelle scorse settimane i pubblici esercizi hanno presentato all'amministrazione comunale un'istanza per l'occupazione di suolo pubblico in corso strada nuova. Ciò comporta la provvisoria deviazione delle linee urbane di trasporto pubblico locale, una misura che era stata pensata negli anni scorsi soprattutto per aiutare il commercio di Pavia dopo i duri anni della pandemia. La deviazione sarà attiva dal 10 giugno al 1 ottobre, dal mercoledì al sabato, a partire dalle ore 17 fino a fine servizio, mentre la domenica e i festivi dalle 17 fino al termine del servizio. In quest'ottica è necessario prevedere la deviazione del percorso bus in strada nuova, da piazza Castello fino al ponte coperto. L'occupazione con sedie e tavolini non compromette i servizi di pubblico intervento, garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza. Come l'anno scorso, dal 10 giugno al 1 ottobre verranno potenziati al tempo stesso i passaggi della linea 3 centro. Nella giornata di sabato la frequenza sarà di 30 minuti con 36 corse, mentre per la domenica e i festivi la frequenza sarà di 60 minuti con 18 corsi in totale.